E' da poco arrivata la notizia che il Belgio sta continuando con il suo piano decennale riguardo lo spegnimento dei suoi impianti nucleari. Dopo lo spegnimento del reattore Doel 3 a settembre 2022, infatti, è il turno di Tianj 2. Ma perché? Che cos'è che ha spinto il Belgio verso questa mossa? E perché sembra che nessuno si stia accorgendo di questo cambio? Scopriamolo insieme. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Ingegneria Italia. Oggi torneremo a parlare di energia nucleare e in particolare vedremo cosa hanno pensato i capi del governo belga per mandare avanti questo piano e vedremo anche perché potrebbe non essere una buona idea come alcune persone stanno sostenendo. Cercheremo di capire innanzitutto cosa sta succedendo in Belgio. Nel 2023 il paese ha fatto passare una legge che avrebbe permesso un progressivo spegnimento delle centrali nucleari in tutto il paese. Il piano originario era quello di sbarazzarsi dell'energia nucleare entro il 2025, ma per tutta una serie di complicazioni, prima fra tutte il malcontento generale che vedremo più avanti, si è deciso di rimandare l'abbandono definitivo a 10 anni dopo il 2026. Volete capirne di più? Allora tasto like, iscrivetevi in Ingegneria Italia e cominciamo. Fu attorno a marzo 2022 che il governo decise di postporre il programma. Il primo ministro, in una conferenza, ha affermato che l'estensione dei tempi di abbandono permetterà al paese di rinforzare la sua indipendenza dai combustibili fossili. E' infatti peculiare la decisione del Belgio di continuare con l'abbandono del nucleare proprio in un periodo tumultuoso come questo, all'ombra della crisi fra Russia e Ucraina, tra i prezzi del gas e praticamente di ogni bene instabili come un castello di carte, e tutto questo potrebbe naturalmente inficiare sulla fornitura energetica del paese. In ogni caso arriviamo a settembre 2022, quando il Belgio ha spento il reattore Doel 3, un reattore funzionante dal 1982 a circa il 60% della potenza. Tuttavia al momento sono ancora in corso le operazioni di pulizia del reattore. Vediamo infatti che poco dopo lo spegnimento, il governo ha rimosso tutti e 157 i gruppi di carburante, trasferendoli in delle piscine speciali per far sì che la loro radioattività si riduca e nella primavera di quest'anno saranno spostati in container speciali per il trasporto e lo smaltimento. Il reattore invece sarà smantellato dopo il completamento di questa operazione con il carburante e si prevede non avvenga prima del 2026, quando dalla centrale saranno rimossi tutti i pezzi e i centri di comando elettrici per poi demolire il resto della struttura. Lo stesso destino spetterà il reattore Tianz 2, il quale è stato spento, stando alle fonti in cui ci siamo imbattuti, proprio nella sera del 31 gennaio 2023, dopo un'attività di oltre 40 anni, lasciando attivi soltanto 4 reattori, tra cui Doel 1 e 2, che comunque saranno spenti nel 2025, mentre Doel 4 e Tianz 3 resteranno attivi per altri 10 anni a partire dal 2026, come dicevamo. In ogni caso vediamo come molti partiti politici si sono schierati attivamente contro questa iniziativa, come ad esempio François Desmet del movimento politico De Fille, spiegando che questa decisione potrebbe portare il Belgio ancora di più nell'incertezza energetica, in un periodo come questo, dicendosi a favore della decisione di rimandare la chiusura dei due reattori di 10 anni, anche se potrebbe non essere abbastanza, e riponendo la sua fiducia in progetti come l'iter o gli small modular reactor, di cui tra parentesi abbiamo parlato di entrambi i progetti in alcuni nostri video passati. Anche Bayer de Weaver della New Flemish Alliance ha twittato dicendo, dopo la chiusura di Doel 3 a settembre, anche Tianz 2 chiuderà. Insieme hanno fornito quasi tante elettricità quante il sole e il vento messi insieme. E ha continuato, tragico, tenere aperte quante più centrali nucleari possibile, il più a lungo possibile, dovrebbe essere una priorità assoluta. Insomma, le decisioni del governo belga hanno sollevato un gran polverone, e questo non sembra deciso a placarsi in tempi brevi. Basti pensare al fatto che la chiusura del Doel 3 ha portato a gravi proteste contro il governo, sia da parte dei cittadini che da parte di organizzazioni no profit. Società come 100 teravattora e Vinsot Nuclear si sono infatti aggiunte alle voci di centinaia di cittadini per tentare di bloccare le decisioni prese dal governo. Le ragioni adotte da parte dei denuncianti riguardavano principalmente la preoccupazione sulla domanda di energia e la paura del rincaro prezzi, specialmente in funzione della guerra in Ucraina, in quanto i programmi del governo comprenderebbero un piano per aumentare l'importazione di gas. Le organizzazioni inoltre sono preoccupate per l'aumento di emissioni dovute al cambio di fonti energetiche. Sappiamo infatti che la produzione di energia nucleare è una produzione che non inquina, in quanto le uniche emissioni sono costituite soltanto da acqua, mentre la scelta del paese di affidarsi al gas accelererebbe sia il riscaldamento globale che l'aumento della richiesta del gas, secondo la società. Mentre con una certa sorpresa Greenpeace si è detta favorevole alla chiusura degli impianti, in quanto secondo l'organizzazione questo accelererebbe la transizione verso l'adozione di energia green. E qui si aprirebbe una diatriva sul fatto che l'energia nucleare in realtà è green. Comunque questo ci fornisce uno spunto di ragionamento interessante. Il Belgio, stando a quanto abbiamo detto finora, vorrebbe fare affidamento all'energia green per diventare indipendente dai combustibili fossili e nel mentre utilizzare il gas come mezzo, ma non è detto che sia una pensata saggia. Poniamo innanzitutto che affidarsi esclusivamente ad un tipo di energia non è mai un piano affidabile, in quanto non avere un backup plan porta quasi sempre a disastri. Basterebbe infatti un piccolo errore di calcolo o un qualsiasi evento imprevisto per rischiare di causare un grandissimo problema, come ad esempio un'improvvisa carenza di combustibili e quindi di energia. E posto questo, vediamo che abbattere il nucleare nella speranza di favorire l'energia green è una mossa estremamente rischiosa, in quanto il green, come vediamo tantissime volte su questo canale, ha tantissimi pregi e punti a favore, ma la criticità fondamentale e comune a quasi ogni fonte rinnovabile è che le tecnologie hanno dei limiti più o meno importanti, come l'efficienza limitata dei pannelli fotovoltaici o l'installazione problematica è la manutenzione dell'energia eolica. Senza contare che sole e vento non sono disponibili 24 ore su 24, capiamo insomma che affidarsi al 100% alle energie green oggi semplicemente non è possibile. Potrebbe esserlo in futuro, ma bisogna guardare la realtà al giorno d'oggi. La preoccupazione di molti, ce ne rendiamo conto, è la sicurezza del nucleare e vi sono svariate ragioni per cui bisognerebbe preferirla come tecnologia rispetto ai combustibili fossili. Innanzitutto non inquina, l'energia viene generata dalla fissione, ovvero la separazione di atomi di uranio. Il calore prodotto dalla reazione scalda l'acqua che evaporando fa girare una turbina per generare elettricità e ciò che viene fuori non è altro che pulito vapore acqueo. Il secondo motivo per il quale l'energia nucleare è considerabile sicura riguarda anche l'impronta sul territorio. Questa infatti occupa effettivamente poco spazio e non va ad inficiare sulla flora e la fauna del territorio, laddove persino rinnovabili come l'energia solare eolica, hanno un impatto molto più grande. Vi faccio un esempio a grandi linee che rende l'idea. Per produrre la stessa quantità di energia ottenuta dal nucleare con il fotovoltaico, si richiederebbe oltre 360 volte l'aria per installare dei pannelli fotovoltaici. Ovviamente ragazzi è una stima, ci sono tanti fattori, ma vi rende l'idea. Un altro motivo che ci viene in mente è la quantità estremamente ridotta di rifiuti creati in proporzione all'energia prodotta. A tal proposito, un dato molto importante da tenere a mente è che se mettessimo tutti i rifiuti prodotti dalle centrali nucleari soltanto negli Stati Uniti, si riempirebbe a malapena un solo campo da calcio. Questo perché l'energia nucleare è estremamente densa e in proporzione vediamo che un pellet di uranio, alto neanche 3 cm, equivale ad oltre una tonnellata di carbone, o se preferite 5.000 metri cubi di gas naturale. Insomma, noi crediamo che l'energia nucleare possa essere una svolta importante in un periodo storico come questo. In quanto affidarsi soltanto a fonti alternative, come dicevamo in apertura, può non essere sempre una buona idea, o almeno al momento. Il tempo ci darà ragione? Non lo sappiamo. Quello che è certo è che sul nucleare ci sono tanti falsi miti, sappiamo che è un argomento che fa scattare pareri molto diverse all'interno del pubblico, ma con il nostro lavoro in Ingegneria Italia cerchiamo nel nostro piccolo di sfatare dei falsi miti che potrebbero portare a conclusioni quantomeno affrettate. Nel frattempo vorremmo chiedere anche a voi cosa ne pensate di quello che il Belgio sta portando avanti come progetto e come strategia nel lungo periodo, vorremmo vedere nei commenti se siete d'accordo o se secondo voi stanno prendendo una strada leggermente sbagliata. Ricordiamoci sempre che sarà solo il tempo a dare ragione alle politiche dei vari stati. Nel frattempo noi cercheremo di continuare con il nostro lavoro di divulgazione scientifica e ingegneristica per portarvi dei contenuti interessanti che spero vi possano dare sia degli spunti su cui ragionare ma anche dei nuovi concetti che magari prima non avevate mai approfondito. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, voi fatecelo sapere con un bel like e noi ci vediamo al prossimo contenuto sempre qui su Ingegneria Italia. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!